E se ti dicessi che dietro uno degli angoli più remoti di una galleria d'arte italiana, per anni nascosto tra i mattoni di un muro, è stato ritrovato un quadro di Klimt del valore di 60 milioni di euro. Una delle notizie che ha fatto più scandalo qualche anno fa è quella del ritratto di signora di Klimt, ritrovato nel muro della galleria d'arte moderna Ricciotti di Piacenza. Era su tutti i giornali e le televisioni sia per la bellezza dell'opera che naturalmente per il suo valore. A quanto pare uno dei giardinieri della villa, ripulendo per bene uno dei muri, ha trovato un comparto in metallo all'interno del quale nella plastica era avvolto il dipinto. Il fatto che si trovasse ancora nel museo non è in realtà una sorpresa al 100%. Già al momento della sua scomparsa, 23 anni prima infatti, si pensava che il furto fosse avvenuto dall'interno e da parte di qualcuno che conosceva bene la struttura. Un ritrovamento eccezionale, considerando che il quadro è uno dei soli tre Klimt che si possono vedere in tutta Italia, ma non l'unico ad essere stato ritrovato da poco.